Davvero eccezionale è questo frammento che non abbiamo ancora capito di che cosa si tratti davvero nel senso che ha tutti gli aspetti di un vaso però qui c'era un foro un foro di forma quadrangolare probabilmente quindi era qualcosa di accessorio alla cucina forse un fornetto uno scaldino non lo sappiamo però per ora confronti non ne abbiamo così così precisi eccezionale la decorazione fatta con dei piccoli cordoni di argilla applicati qui una fila di svastiche ovviamente il simbolo del sole che è un elemento molto 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 frequente in questa ultima fase del bronzo finale decimo secolo e poi queste questi motivi angolati che in realtà sono la iperstilizzazione di uccelli acquatici quindi rapporto tra l'uccello acquatico il sole è un classico è un classico assoluto qui siamo nel centro geometrico per quello che sappiamo fino ad oggi naturalmente del grande sito di villa marzana perché sappiamo che siamo nel probabile centro geometrico perché villa marzana che è un sito noto fin dagli anni settanta e che è stato oggetto di sondaggi negli anni settanta e negli anni alla fine all'inizio degli anni 90 da parte della soprintendenza in particolare da parte del dottor salzani è noto soprattutto per diciamo quelle che sono le cosiddette evidenze di superficie cioè la grande presenza di soprattutto frammenti ceramici sulla superficie dei campi e frammenti ceramici che sono stati ovviamente portati in superficie dall'aratro e tra l'altro camminando potremmo potrebbero saltare fuori sì sì assolutamente sì ecco la prima azione che abbiamo svolto la prima azione che abbiamo svolto esattamente questo è un frammento purtroppo solo di una parete di un vaso però diciamo l'impasto è abbastanza grossolano potremmo ipotizzare che si tratti di un vaso per contenere per cuocere e non un vaso non un contenitore per bere o per mangiare semplicemente in superficie qua siamo in superficie rivoltato dalla esattamente soprattutto diciamo il momento in cui questi siti sono emersi e sono gli anni 60 del secolo del secolo scorso perché le attività agricole in quel periodo prevedevano una profonda penetrazione del terreno fino a 60 70 centimetri e talvolta anche oltre e questo naturalmente ha intercettato gli strati archeologici nelle epoche precedenti e anche adesso invece le rature sono molto più superficiali quindi i siti sono stati ovviamente troncati per una parte però diciamo che adesso non vengono più disturbati ed è questa anche la ragione per cui possiamo scavarli in questo settore di scavo che noi abbiamo denominato settore 2 una finestra su quella che è probabilmente un'area abitativa ma poi tornerò su questo aggettivo un'area abitativa del grande sito di villa marzana che è un sito che si sviluppa tra il decimo e il nono secolo avanti cristo probabilmente un momento molto iniziale del nono secolo avanti cristo ed è un insediamento che fa sistema con il grande insediamento di frattesina quindi villa marzana e frattesina sono due i due poli il vero centro nevralgico del medio polesine in questa fase della tarda età della fine dell'età del bronzo dei primi inizi dell'età del ferro in cui questo sistema era davvero un centro nevralgico a livello non solo italiano ma europeo per capire il rapporto che villa marzana aveva con frattesina almeno per i 150 anni circa in cui questi due siti si sono sovrapposti come vita perché frattesina nasce un paio di secoli prima rispetto a villa marzana però entrambi i siti diciamo si disattivano assieme intorno all'inizio del nono secolo avanti cristo dobbiamo capire un po la differenza dell'organizzazione spaziale di questi due insediamenti che non possono essere considerati come due insediamenti antagonisti perché sono troppo vicini oltretutto tra i due c'è un altro piccolo sito quindi ma parte di un sistema integrato allora frattesina grazie alle indagini che i colleghi dell'università di roma il professor cardarelli e del cipsa e di rovigo il dottor belintani hanno condotto già in anni precedenti ha una estensione che si aggira intorno ai 20 20 25 ettari quindi un sito grande ma non non enorme rispetto a quelli che sono i più grandi siti dell'età del bronzo e tuttavia a tessuto abitativo interno che loro sono riusciti a leggere attraverso le indagini magnetometriche quindi diciamo una sorta di radiografia passatemi il termine di quello che c'è sotto il terreno e che non si vede il tessuto abitativo è estremamente fitto è molto regolare con case una ravvicinata all'altra probabilmente chiaramente anche non solo case ma anche aree di attività e villa marzana invece è completamente diverso perché i per quanto sappiamo e l'estensione sulla base dei materiali di superficie di villa marzana è di 80 ettari circa quindi è al circa quattro volte tanto frattesina e questo ha fatto pensare alcuni studiosi che fosse a un certo punto villa marzana la capitale chiamiamola così di questo di questo sistema dobbiamo però fare delle considerazioni anche noi abbiamo qui svolto la indagini magnetometriche sia con il collega cornelius mayer di berlino sia con la collega vika denef dell'università di ghent e quello che è emerso diciamo è stato un po la guida per l'apertura dei nostri scavi è che il tessuto abitativo di villa marzana è molto diverso rispetto a quella frattesina è un tessuto molto più rarefatto più rado con case diciamo e altre strutture accessorie che potevano essere aree di lavorazione come quella che stiamo scavando o probabilmente recinti per il ricovero del bestiame eccetera piuttosto distanziati non solo ma al di là del canale che diciamo taglia il sito di villa marzana in questo punto in senso est ovest la magnetometria non ha restituito evidenze abitative ma evidenze probabilmente di un settore di campagna ovviamente di 3 mila anni fa costituita cioè contraddistinta dalla presenza di canalette di irrigazione eccetera quindi il sito di villa marzana è sì più grande però in questo non implica che avesse una densità demografica così consistente poteva essere un sito che era principalmente vocato alla produzione produzione primaria quindi agricoltura allevamento quindi villa marzana è un sito che al momento non mostra grandi confronti non sono noti grandi confronti un sito costituito da più nuclei circondati e forse circondati da campagna strutturata quindi aree produttive interland produttivo con probabilmente delle aree ortive anche all'interno dei siti stessi agglomerati in un'area di 80 ettari questo secondo me è la chiave di lettura per capire il rapporto frattesina villa marzana che potrebbe che sicuramente un rapporto non tanto di dipendenza ma di integrazione forse frattesina ma abbiamo siamo nel campo delle ipotesi ma farsi dei modelli storici che poi magari vengono smentiti è importante forse frattesina che ha una storia più antica alle spalle resta il grande centro di produzione artigianali bronzo vetro ambra e quant'altro e villa marzana forse rappresenta quello che è il suo granaio chiamiamolo così potrebbe essere questa un'ipotesi ma chiaramente soltanto le future ricerche ce lo potranno eventualmente confermare siamo intorno al 1000 avanti cristo in questa zona quello che abbiamo identificato è un'area che non è propriamente abitativa cioè non stiamo cascavando delle case in senso proprio ma probabilmente delle aree che sono circostanti alle case e che sono ad esse connesse in senso funzionale in quella in quella zona dove ci sono i ragazzi che stanno scavando sono tutti ovviamente studenti dell'università di Padova di vari gradi abbiamo identificato una parte di una grande canaletta di una grande canala che aveva questo senso quindi si aveva un un orientamento sud ovest nord est settore che tuttavia come ho accennato non si configura come un'area strettamente abitativa ma più più che altro probabilmente come un'area con termine adiacente a delle case a delle abitazioni con sicuramente delle attività di tipo artigianale produttivo trasformativo che prevedevano l'utilizzo del fuoco quindi la realizzazione di forni fornaci eccetera e in questa canala molto ampia che ha appunto un orientamento circa nord est sud ovest noi vediamo gli scarichi di tutte queste attività che venivano effettuate sulla superficie di grandi piattaforme limose realizzate ovviamente in maniera artificiale la grande domanda alla quale noi ancora non riusciamo a dare risposta per ora è che tipo di attività si svolgessero su queste piattaforme che tipo di chiamiamolo artigianato fra virgolette io vedo diciamo cos'è un vespaio no questo è questo è ecco qui osserviamo diciamo uno strato è già stato tolto e uno strato era composto praticamente da solo frammenti ceramici da vasi rotti che sono stati scaricati all'interno di questa struttura a forma di canaletta piuttosto ampia al di sotto vediamo e lo vediamo la in quell'area molto arrossata sono tutti concotti cioè frammenti di piastre forni fornacette eccetera che venivano ovviamente utilizzate per fare qualcosa sul quale ci stiamo interrogando e che poi nel momento in cui non erano più utilizzate venivano smontate e buttate in un immondezzaio tuttavia questa è una stesura volontaria cioè a un certo punto questa canaletta che al di sotto ha degli degli strati di scarico è stata in qualche modo bonificata hanno fatto come cosa molto simile a quello che vedo che sta venendo a frattesina esattamente c'è un momento in cui i fossati vengono vengono riempiti qua probabilmente siamo in una fase posteriore rispetto al riempimento dei fossati di frattesina ma ovviamente solo lo studio di dettaglio dei materiali e delle analisi le datazioni radiocarboniche ci potranno dare degli degli appigli di maggiore dettaglio possiamo passare vedete da frammenti molto grossolani come questo che è un vaso da cucina diciamo o per o per contenere dei rate alimentari o per cuocere vedete un impasto piuttosto grossolano questo tipo di decorazione a cordone che è tipica appunto di questa di queste forme funzionali che sono un po le nostre pentole diciamo ma poi anche vasi molto più raffinati questo appunto è un elemento tipico dell'ultima fase dell'età del bronzo finale quindi del decimo secolo una piccola olla quindi era un vaso per contenere ma evidentemente contenere delle sostanze abbastanza importanti pregiate con una decorazione definita cordicella che veniva realizzata imprimendo una una verga di di rame o di bronzo a torta a spirale e realizzando questo tipo di decorazione poi con l'aggiunta di questi piccoli punti che noi diciamo in termine tecnico chiamiamo coppelle ecco questo è un altro molto bello in cui si vede proprio in questo è un impasto nero quasi buccheroide chiamiamolo fra virgolette fra molte virgolette con una decorazione sempre a cordicella e anche questo è un indicatore molto puntuale del decimo del decimo secolo è possibile questa è solo però un ipotesi di lavoro che l'attività che prevedeva l'uso del fuoco che si veniva effettuata in quest'area fosse un'attività che non lascia traccia archeologica cioè forse il materiale che veniva processato diciamo così era materiale che degradabile quindi organico l'ipotesi è che qui venissero trasformati i cereali quindi le derrate alimentari forse per tostatura non sappiamo se quest'area fosse un'area che aveva questa destinazione esclusiva oppure se fosse vicina a una abitazione o che si trattasse di un'area probabilmente diciamo in qualche modo specializzata per questa attività è ed è questo l'importante in questo scavo di avere scavo e laboratorio in contemporanea è che abbiamo già visto come il in quell'area le forme ceramiche che sono state rinvenute sono tutte forme ceramiche grossolane grandi contenitori cose per contenere per cuocere per bollire sono molto poche le forme da mensa i vasi da mensa le tasse le scodelle quindi per bere per mangiare mentre da quel in quell'area abbiamo dei frammenti che hanno una natura funzionale diversa quindi ipotizziamo ma ripeto è soltanto un'ipotesi che queste due aree fossero in qualche modo connesse anzi certamente connesse ma con funzioni diversificate l'ultimo frammento che vi faccio vedere che ora cerco di orientare nella maniera più puntuale questo con questa decorazione estremamente complessa realizzata con uno strumento particolare che si chiama pettine cioè una sorta di pettinino molto piccolo in questo caso a 45 denti per la realizzazione di motivi molto complessi ecco questo tipo di decorazione che diciamo compare in quest'area verso la fine del decimo secolo rimanda molto chiaramente all'etruria l'etruria dell'età del bronzo finale naturalmente quindi si fra il tardo proto villanoviano e l'inizio del villanoviano e questo indica come appunto questo area del polesine fosse comunque un punto di attrazione anche per le popolazioni centro italiche perché comunque era un punto di già da prima già nella fine del bronzo recente i primi inizi del bronzo finale un punto di raccordo di direttrici di scambio che quindi non bisogna aspettare spina il rapporto con l'oriente che durava per la per quest'area della pianura padana da tre secoli sostanzialmente rapporto con l'eggeo con l'oriente si interrompe e forse si apre un o meglio si consolida un collegamento con l'italia con l'italia centrale in particolare con quella che sarà l'etruria diciamo e quindi per tre secoli almeno tre secoli e mezzo l'adriatico settentrionale non sarà più un mare percorso da navi greche o provenienti dall'eggeo dall'oriente fino alla fondazione degli grandi empori del tizi di san basilio di adria e di spina Grazie a tutti